Il rastone braviur è una razza di cani antichi, venivano considerati i cani da pagliaro, venivano utilizzati per tutta la caccia e servivano proprio perché portavano a chi andava a caccia più selvaggina possibile. Questi cani in questo momento sono appoggiati da un gruppo che si chiama GAR, gruppo amatoriale Restone, che sta cercando il riconoscimento di questa razza da parte dell'Enci, perché è stata una razza che anticamente c'era tanto, che ultimamente è stata abbandonata. Comunque ci sono parecchi esemplari, gli allevatori stanno facendo un ottimo lavoro su questa razza e il GAR sta lavorando per il riconoscimento. Qui abbiamo Paolo Alessi Antonini, che è il rappresentante del suo allevamento, l'allevamento amatoriale di Prince, che seleziona questi cani priormente per la caccia e speriamo di riuscire ad arrivare con questi cani anche su qualche bel campo gara.